Alle mie spalle potete ammirare Palazzo Bellini. Palazzo Bellini è sicuramente uno dei più bei palazzi della nostra città. È stato ristrutturato alla fine del 1700 e contiene al suo interno delle decorazioni a stucco e dei dipinti davvero di notevole pregio. È in parte comunale e la parte rimasta del comune viene utilizzata per delle mostre, per degli eventi culturali e anche per i matrimoni. È un palazzo sicuramente molto apprezzato da tutti gli oleggesi e anche dai numerosi turisti che hanno avuto la possibilità di visitarlo durante gli eventi culturali. Purtroppo inizia a risentire un po' soprattutto delle infiltrazioni o comunque dell'umidità, infatti abbiamo avuto distacco di una parte del cornicione esterno proprio recentemente e degli stucchi interni si stanno staccando. Uniti per Oleggio vuole prendersi cura di questo bene della nostra città abbiamo intenzione di stanziare dei fondi per la sua ristrutturazione e per riportarlo al giusto splendore che merita.